Con un provvedimento dell'ultima ora il commissario straordinario dell'ASI di Foggia, Agostino De Pauli, si è annullato e rinviato a data da destinarsi l'assemblea dei soci che proprio domani doveva eleggere il nuovo presidente del consorzio. Un provvedimento a ciel sereno che spiazza tutti, soprattutto coloro, quasi tutti i soci, che avevano individuato in Giulio Colecchia il nome da votare per la presidenza. Invece nulla si andrà avanti con il commissario, almeno per il momento. De Pauli si infatti vorrà prima mettere in moto una macchina ormai ferma i box da troppo tempo e con un bilancio in grave passività, frutto di come il consorzio è stato gestito negli anni e per il fatto che i soci continuano a non versare le quote. I problemi sono tanti, oltre al milione di debiti, l'ASI deve fare i conti anche con una serie di contenziosi, un territorio strategico che non decolla e che non è più appetibile dagli imprenditori. De Pauli punta a sbloccare i progetti finanziati dalla regione Puglia, ad iniziare da quelli inerenti alla rete viaria e alla videosorverlanza, senza tralasciare la questione del depuratore, sotto sequestro da oltre due anni. Eppure sono disponibili da subito ben 3 milioni di euro. Dottor De Pauli, come lo stato di salute del consorzio ASI ha la luce delle tante vertenze aperte in Capitanata? Le potenzialità sono notevoli. C'è la necessità di avviare una macchina che per parecchio tempo non ha funzionato. E i vari tentativi di rimetterla in carreggiata, per un motivo o per l'altro, non sono approdati a un risultato soddisfacente. Tante potenzialità, ma anche tante criticità. È per questo che nessuno vuole venire ad investire qui a Foggia? Le potenzialità e le criticità vanno di pari passo. Dire che ci sono delle potenzialità già significa che non ci sono delle situazioni già consolidate. Parlo di una serie di infrastrutture, tra cui la rete viaria, il depuratore, la videosorveglianza, tutta una serie di cose che attengono poi al problema più generale della sicurezza anche e che consentono ovviamente alle valutazioni, costi benefici che un imprenditore fa prima di investire in una zona, di fare delle valutazioni che siano positive, che portino cioè a realizzare degli investimenti. Rete viaria, videosorveglianza, progetti presentati dall'Asi ma ancora non attuati. Ci sono i fondi, però nulla si è fatto finora. Come pensa di sbloccare queste vertenze? Con delle decisioni. È il momento di assumere delle decisioni e queste decisioni devono andare nell'ottica di, come ho detto, di riavviare una macchina che non andava in moto fino a poco tempo fa. Grazie.